Ragazzi, siamo tornati nelle build battle, yes! Abbiamo... Stirloss, sgroblostr, abbiamo homorolls, abbiamo talk4play, e abbiamo Tano che è già strano di per sé, quindi lo chiamiamo Tano. Ragazzi, Arambea, vabbè Arambea, adesso tiriamo fuori Tia, e poi vogliamo tirare fuori altre meme morte, eh? Il canale di Tia, per dire... Comunque, ragazzi, fateci sapere se siete contenti, abbiamo fatto questo esperimento delle build battle, se vi piacciono ne portiamo altre. Andiamo in partita, vediamo se abbiamo ancora la manina d'oro, soprattutto Tano. Ok ragazzi, vai, si fa uno zombie, siete contenti di fare... Ma ragazzi, guarda, c'è un problema, ecco, e se non ne fossi capace... Tano, tu provaci al massimo delle tue possibilità. Va bene? Sei mai stato capace di fare una cosa, Tano, sulle team battle? No, ragazzi, allora, allora... Io sono bravo, però... E già fa ridere, comunque... Però dipende cosa c'è da disegnare, e quanto tempo ho. Di disegnare uno zombie, Tano, dai, non è così complicato se ci pensi. Ragazzi, il server blocca la mia creatività, io prendo i blocchi e mi dice, non sono abilitato in questo server. Cioè, blocca la mia creatività. Sì, ma perché tu, te l'abbiamo detto prima di cominciare, non devi prendere i blocchi della 1.13. Quelli belli ho preso. Eh, vabbè, Tano. Qualcuno mi ha detto, entra con la 1.13, perché se no non puoi usare quei blocchi. Ho detto non entrare con la 1.13. Ma che l'ho fatto in 1.13? Tano! Tano, no, la 1.13 no. Hai capito? Era l'unica cosa che non dovevi fare, Tano. No, la 1.13. Tandette, no, la 1.13, sì, la 1.12. Io sono in 1.12, infatti. Uffa. Ma dispiacendo quello che sto facendo. Cioè, nel senso, sto provando a fare tipo uno zombie. Ok. Però in scala. No, in scala, le cose in scala. Eh, perché come facevo a farlo a grandezza? In scala 40, Eren. No, T.R., non in scala 40. Lo faccio a derp? Come lo faccio, raga? Ricordati che le cose derp funzionano, quindi in teoria. Che bene. Ragazzi, mi mancavano le risate isteriche di Tech. Voglio la pagina Instagram, le risate isteriche di Tech. Viva. Nobody wants to live. Raga, un fattore Shrek. Ma perché c'è Tech che, tipo, sta morendo da ridere e tutti gli altri sono, tipo, depressi? Perché non sanno come fare. Non sanno come potersi la via. Io sto tryhardando il disegno. Non so se faccio il disegno qua, la Buildings. Perché non so se riesco a finirlo. Ragazzi, mi danno il premio Oscar per le Build, ve lo dico. Oddio. Il premio Oscar per le Build? Sì. Cosa vuol dire? Ti spiego, ti spiego. Ti spiego. Ti spiego. Hanno fatto, tipo, l'attacco dei giganti e robe simili, ecco. Mi noteranno, mi noteranno per la mia bravura e mi contatteranno per fare i loro disegni. Sì, eh? Guarda, non è che il manga ha disegnato meglio il mondo, però, no. Tano. No, bro, bro. Non credo proprio. Ok, ragazzi, io lo tengo così. Easy, pucciosino, carino. Vediamo cosa succede. No, sto facendo... Allora, ragazzi, mi siamo subito a dare i puponi, quelli seri. Ma perché lui ha il plot diverso rispetto a tutti gli altri? Oh, ragazzi, sto facendo il mio cuoricino. Ah, il cuoricino è completo. Ti do solo un ok, diciamo. Guarda, che bello, cuccioso. Ma perché è buccato? Lo sapevo. Lo sapevo. Perché voglio vedere i gialli leggendari. Dai, tira le cose cucciose. I gialli, i gialli. Ma che cos... Sono le gambe. Super poop. È il cervello. È il fiore in testa. Ma è bruttissimo. È terrific. No, è il cervello che esce, giusto. Oh, questo è trafitto da... Oh, oh. È Pepe le froga. È il trafitto. È Pepe le froga. Ma cosa? Questo mi piace. Ma cosa? Questo gli do... Gli ho dato un ok. Tiar! Bella! Bella, Tiar! Tiar! Vabbè, ok, dai. Ok, tu dai. Il pezzettino di testa manca di proposito, ma non si capisce. Mi piacevano... Mi piacciono le mani. Ma... Grazie. Ma te... Ma te... L'acqua è il più bello alla fine del mio. No, raga. Perché io ti do poop perché è davvero terribile. Instabacco. Lo zombie meccanico. Ma è storto. No, io... Che... Ma perché? Tu ti ha avuto un parco di male. No! È Tis... Super poop. È un po' l'uomo. Ma finora non ho dato più di ok. Oh! Oh, vince Eme. Io arrivo terzo. Aspetta, Tano, quanto sei arrivato tu? Sesto. Non ci credo mai. Te lo giuro. No, com'è possibile? Tano davanti a te. Oh, Dio mio. Ragazzi, seconda partita. Yeah. Vediamo un po' cosa... Uh, drink, ragazzi. Drink significa bere. Ok. Ma il drink potrebbe essere anche... Ma che è la cosa da bere. Può anche essere la bevanda. Sì, il drink... Eh, sì, dai. Come lo devi tu. Quindi, devi un po' capire qual è la tua strada e sorprenderci con la tua creazione, Tano. Sì, certo. Beh, non che ci voglia molto. Ilaro, tu che non commenti, cosa ci dici? Io stavo... Adesso sto lavorando a il primo bicchiere, perché essendo comunque una bibita va nel bicchiere. E se riesco, faccio anche un secondo con un altro link al suo interno. Potrei farcela, non è molto complicato, tecnicamente, farne due. Dipende dal salto. Sto facendo un approccio particolare, invece. Non voglio ancora svelare le mie carte, ma sappiate che è diverso da quello che stavate dicendo voi. Sinceramente, non voglio vantarmi, ma ho un'idea assurda. Vabbè, già quando parti con non voglio vantarmi, dovrebbe finire lì la frase, Tano. Ho pensato che la mia idea forse è offensiva. No, Tano. Tano, ti prego. Ormai è tardi, raga. Ormai è tardi. Tano, spiegami perché è offensiva, per piacere. Avrei paura, eh. No, no. No, non ho un cavolo. Dimmi perché è offensiva, Tano. È il mio video, per piacere. Nel senso, perché pare di... No, Tano. No, no, attento, non si capisce, non l'ho nemmeno finita, non riesco a finirla, mi sa. Ok, ok, allora. Ah, cioè, lo capiamo tutti. Devo dire che il risultato non è malaccio. È un po' easy, però. Mi servono delle participe. Io ho puntato sulla simpatia. Ok, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Che cosa triste. Ok, ragazzi, è bellissimo. Ragazzi, è leggendario. Ho fatto un disegno leggendario. Il mio non è male. Raga, voglio tutti leggendari. Il mio è tristissimo, ma è sicuramente meglio di questo. Vabbè, ragazzi. Vabbè, lo sappiamo. No, vabbè, un bicchiere d'acqua, dai. Eh sì, vabbè, però... Ma poteva almeno metterci l'acqua, perché ci ha messo la... Uuuuh, ha fatto il filtro d'amore. Dai, ti do ok, ti do ok, per la creatività, ma... C'è il dettaglio. Bello. È carino. Sì, sì, sì. Io l'ho fatto sì. Ah no, è carino che c'è la cannuccia. Esatto, i fruttini dentro. Però mi aspetto qualcosa di più. Allora, Emy ha fatto una cosa... E' carino. Ok, ok. Perché ci hai messo anche il limoncino qua. Ti do ok. Qua ha fatto la bottiglia di vino, la cacatela. Questo è good, eh? Questo è very good. Ma, sai, io sono un po' restito a dare good. Good? No, 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 no. Il kawaii no. Ma basta, io non lo berrei neanche. Il kawaii no va più di modi dentro. Mi dispiace. Io non farei mai una cosa kawaii, ragazzi. Ma, portale. È un distributore. È un distributore. Questo è il distributore. Allora, gli do... Gli do solo poop per l'idea. No, no, no. Perché sarebbe poop, super poop. Esatto. Tano? È un barbone sul cibo della strada. L'abbraccio, non l'abbraccio. Ti do good. Sì, la posso fare. Stavo anche vivendo il velino. Oh, carina questa. Bello. Questo è molto bello. Gli do good a questo, bello. Tano? Sono dentro, ragazzi. Oh, questa è carina la lattina, eh? No. No. Ok, ma niente di che. Ok. Ok. Questo è ok. Questo è quello che è arrivato il secondo prima. Bello il braccio. Però era meglio quello di prima. Quindi a lui do ok per pronarlo a fare meglio. Ragazzi. Ah, ci perde pure. Sì, sì. Proprio, è una sete incredibile. Sbrodola un sacco. Dottemi dei bei voti. Perché mi dà super poop questo rosicone? L'ho visto. Questo ha fatto anche il tappetto sopra. Adesso do super poop a tutti. No, gli darei... Sono pessimi quelli che votano in questo gioco. Sono pessimi. Oddio, fa la birrozza. La birrozza. La birrozza. Bella, la birrozza bella. Bella, la birrozza bella. Bella, ci piace. Ma buono. Buona anche. E vince Tiar. Raga, dai. Io vengo a quinto. Io sono arrivato sesto. Raga, mi stavamo votando bene. C'erano due rosiconi che mi hanno dato super poop. Ma come si fa? Ma no. Ok, abbiamo arcade, race carpi. Ok. Ok. Excuse me? Sì, vabbè, il tempo di scegliere e di guardare neanche. Ok. Ma chi è? Race car? Io so fare le macchine, ragazzi. Io so fare le macchine. Però ragazzi, quanto cavoli state tragiardando? No, no. Io, raga, sono nei Kaiser, veramente. Perché sono nei Kaiser? Eh, perché sto facendo una cosa che c'entra con le race car, ma è abbastanza grossa. Ah. Eh, ok. Eh, non ho capito. Potresti rimanere offeso con le cose grosse, però. Quindi mi sa che ci perdo troppo tempo e non riesco a completarlo. Neanche il tempo. Così. Uno, due, tre. Ok, facciamo così. Quattro. Col quarzo la faccio, che è molto meglio. Anche io la sto facendo con il quarzo. E il tech. Ti sto copiando. E il tech, sei un copione. No, ragazzi, ti sto copiando me, voi. Tano, tu proprio. Tano, guarda, fa ridio. No, allora, ragazzi, voi, però, ve lo dico, questo ve lo assicuro, mi sottovalutate. No, Tano. Sì, probabilmente. Allora, non è che ti sottovalutiamo. Cioè, ti valutiamo male. È che Tano sappiamo di essere in grado di fare. Ti valutiamo poco, Tano. Ti valutiamo poco e di solito abbiamo ragione. Non è vero, è che non ho tempo per finire le cose. Io faccio cose che ci vuole più tempo. E sta anche quello, la build battle. L'arte delle build battle sta anche nell'essere, insomma, veloci e celeri. Come le macchine da corso. Chissà chi c'ho come vicino, magari posso spiare. Oh, Tier, vediamo cosa fa Tier. No, che brutto. È bruttissima la mia macchina. Ma perché io non posso salire lì? Sì, però, effettivamente, io potrei farmi i cavoli miei che sono indietro da matti. Esatto. Potevo mettere l'exam... Ah, no, dai, dai. Non è malaccio. Eh, ma subito io, però. Che assietta. Ok, ok. Raga, mi sei glitchato l'effetto delle pallicelle. Che ne hai detto? Mi piace? Mi piace. Non è male. Guarda che... Allora, tu, come ti chiami tu? Ti ho visto. Tinkz TTH cosa. Mi ha dato super poop. Li dò la super poop. Allora, questo è poop che fa... Schifo. Come si chiama? Ha fatto il drugster, no? Io, raga, mi sono spunti un po' oltre e non l'ho finito. Ma anche io non l'ho finita. Aia, aia. Eeeh, vabbè. Eccolo lì. Vabbè. Cosa c'è scritto? Questa è carina, il Formula 1. Perché ci sta leccando il cosiddetto per farsi votare, Tec. Ovvio. Ah, ok, ok, dici. Tec ha fatto... Eh, Tec. Non è male, non è male, Tec. Non è male, Tec, non è male. Ok, ti do un ok. Ah, grazie. Per me è good. Qualcuno ti ha dato un epico. Che tano! Scusate, non l'ho finita già. Ma cos'è il primo? Scusate. Che cos'è quella roba? È un uomino, che cos'è? Sì, è un uomino. Ue, vabbè, che affatto. Eeeh, sì. È tipo la mia, però gigante. Sì, esatto. Di scala gigante. Io, raga... Uno che se lo merita, però pochi dettagli. Ma questo? Ma cos'è? Tu hai muto? Rune con Carlos? Questo non ha capito. Vabbè, questo ci ha provato. a fare il simpatico, non ce l'ha fatto ridere. Guarda che bella... Allora, dietro io stavo mettendo gli effetti, mi ha messo la lava. Lol. È orribile. È terribile. Beh, l'avevo vista dalla finestra che faceva schifo. Questo è microscopico. Cos'è? È un micro machine. Ok, dai. Cioè, però, hai cinque minuti, fai una cosa un po' più grossa. Eh, esatto. Bella questa. Devinate che voto gli ho dato? Pup. Pup. Non è anch'io. Ma che cos'è? Cosa? Ah, cos'è? No, raga, super poop tutti. Mi ha dato super poop questo infame. Ma è lui? T'ho visto. Sì, ma fa schifo. Ma cos'è sta roba? È una sala micrame. Eh, raga, io stavo facendo la pista per farci sopra la macchina. Ma non c'è la macchina. Eh, ma facci sopra la macchina. Ci sono arrivati in tempo. Guarda, ti do poop. Poop per ricoraggiarti. Sono buono. Vabbè. Questa è 6M Queen. Ma è davvero 6M Queen? Ma è uscito malissimo. Ma è dall'alto. C'era proprio scritto nel cartello che sei a me qui. Sì, perché sennò devi farlo capire. Ma che cos'è? Che cos'è? Non l'ha finito. Qualcuno gli sta andando leggendario. Sì. Sì. Guarda, ragazzi. Questo è un bel modo per... Raga, quanto cavoli sono fresco. Cioè, ho agghiacciato l'arena e talmente sono fresco. Mamma mia. Comunque, posso dire una cosa? No, video finito.